Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova challenge, oggi utilizzerò il KF-5 Elite Come accessori gli ho messo il mirino Red Hot, calcio anteriore e mirino laser Poi ho messo anche il drone tagliente e quindi devo fare almeno 20 uccisioni con il KF-5 E 5 uccisioni con il drone tagliente, sarebbero due challenge ragazzi Se riesco vorrei completarle tutte e due in un unico video, quindi si parte Ed eccoci qua sulla mappa Core o Core come volete chiamarla Vai, dominio in guerra terrestre ragazzi E quindi siamo 8 miliardi e mezzo di persone Muori, niente da fare Siamo veramente tantissimi qua dentro, spero che la mia squadra sappia un po' cosa fare Io provo ad andare da questa, attenzione Tu muori, nooo dall'altra, troppo lento sto stato, troppo lento, vai ragazzi tutti su B A e B, A e B, A e B, avanti Perché? Ma non l'ho neanche colpito Si era rintanato come un topo Avanti su B ragazzi, avanti Grandissimi E adesso via, si fugge su A Niente da fare, l'hanno già ucciso Vai, prova ad andare quassù Dovrebbero arrivare da questa Attenzione, eccolo là Preso Aspettate, mando l'altro UAV così Perfetto, abbiamo come un Vsat Perfetto Mi sa che gli avversari ragazzi, o hanno quittato tutti Perché non ne vedo moltissimi Appena parlato Vistarda, hai appena parlato? Vai, Charlie sotto controllo Vabbè, tripla cattura, mi va bene a me Mi va molto bene Vai, UAV E adesso sono cavoli vostri ragazzi No, non l'avevo visto Ma non c'era neanche nella minimappa Non aveva ancora Ma dai Preso Ehi, 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 ehi B è mia È solo mia E invece l'hanno presa loro Ma perché? C'era lì il mio compagno di squadra E gli ha fatto catturare B Non abbiamo nemmeno A Conquistiamo, bravo No, hit marker, maledetti 38 a 33 Partita veramente combattuta Muori Solo hit marker Solo cavolo di hit marker Sono a secco, Riccardo Dai, dai, dai Tutti su B, tutti su B Se io mi metto qua In teoria non dovrebbero vedermi A destra, a destra, a destra C'ho veramente i compagni di squadra morti C'ero io sulla bandiera Ma copri dall'altra, no? Quello è una cavalletta Va a destra e a sinistra Alfa in mano nemica Alfa in mano nemica B in mano nemica No, B è neutrale E allora la andiamo a prendere Ragazzi Che cavolo fate? Dai, tutti qua Tutti qua ragazzi Tutti qua Vai così Andiamo a prendere anche A Anzi A Lasciamogliela così Spawnano lì E non rompono più le scatole E un altro hit marker No, eh Mi hanno detto Bistar da fai pochi Hit marker Poi questo mi uccide Dai, va ecco Subì Subì Iperconcentrato ragazzi Sono straconcentrato Hit marker Insint marker Headshot E poi c'era anche quell'altro Non l'avevo visto dalla minimappa Non l'avevo visto Stiamo vincendo di pochissimo Preso Come ce n'è un altro Preso Preso Questo valeva triplo Vai, tutti su A Tutti su A Tutti su A Vi ho detto Avanti No, no, no Da dietro Preso E poi muore Ci deve pensare Sempre Bistar qua Non ho capito io Ma sta gente Vuole andare sulle bandiere O fa finta Eh, perdiamo B Ma va Almeno l'ho fatta neutrale Almeno quello Non chiedo moltissimo Ma Dove è andato a finire Quello Maledetto Camperone Bastardo Vai che il primo tempo È andato Vediamo il secondo tempo Se andrà meglio Dai, subito su C Subito Allora, uno su C Vai così Prendiamo tutti C Vai così Sono il primo ragazzi Della mia squadra A prendere bandiere E Uccisioni Vai Dai È così No, non l'ho preso Porca vacca Sì invece L'avevo ucciso Vai con l'UAV Vai con l'UAV Tutti su B Tutti su B Qua ci vorrebbero le cuffiette Ragazzi Avere una bella squadra Ola Beccato E poi era Quello lì Camperato Io questi qua Veramente Io li bannerei a vita Ehi Porcelli Cosa fate? Camperate Mentre Gioca Bistard Qua adesso muoio Difatti C'ho un sesto senso Io per queste cose Ragazzi Che fa paura Là c'era qualcuno Mi pare Occhio da dietro No Lo sapevo io Vai Ti aiuto io a prendere B Vediamo se qua c'è qualcuno No Perfetto Tutti su C sono Tutti su C Da questa parte Preso Prefato Prefire cicciobello Ti ho fatto un prefire Da panico Vai andiamo lì da dietro Proviamo ad aggirarli Maledetto camperone Là dietro Che cavolo facevi Là Vai col bombardamento Ragazzi Dai Dai Ecco il bombardamento Ola Ha fatto una bellissima strage E andiamo a prendere anche A Oh muori Ola Vai col UAV Questa partita mi piace ragazzi Eh Guerra terrestre È una bella Preso Non mi prendi La bandiera Quando ci sono io A proteggerla Qui anche c'è qualcuno No Munizioni scarse Preso Devo cambiare arma Ragazzi eh E comunque sono già A 22 uccisioni Levati Cavacca Sti compagni di squadra Va bene Meglio così Tanto non ho ucciso nessuno E adesso dovrei Utilizzare ragazzi Questi No Preso Assist Maledetto Tiriamogli giù Warboard Tiriamoglielo giù Ragazzi Vai così Vabbè tanto è laggiù Vai io devo fare qualche uccisione Con il drone tagliente Niente da fare Cinque uccisioni Con il drone tagliente Sono veramente Difficili Ma Difficili In una maniera incredibile Preso E l'ho preso Appena detto ragazzi Solo che avevo solamente Solo che avevo solamente Ah no Ne ho due Due droni taglienti Quindi fatevi sotto Avanti UAV Dai è così col drone tagliente Preso Preso Avanti così No Ho preso L'ho ucciso col drone tagliente Siamo a due ragazzi E siamo a due uccisioni Col drone taglienti Col drone tagliente No Ce ne erano due lì Belli Spaffaranzati A terra Vieni qua Esci Avanti Preso E siamo a tre ragazzi Siamo a tre Col drone tagliente Gli ho finiti Ho finiti I droni taglienti No Tre Me ne mancano due Me ne mancano due Devo farmi uccidere Eh ma Se muoio in combattimento Ok Così va bene Vai Due in trenta secondi Impossibile Tre Quattro Infilzato L'ultimo L'ultimo Mi manca l'ultimo drone tagliente Ragazzi No No Perché Che scatole ragazzi Quattro ne ho uccisi Col drone tagliente Porca vacca Niente da fare Quindi Io direi che Il video può finire qua Abbiamo fatto una challenge E l'altra Completata al 90% Quindi lasciate veramente Tantissimi pollicioni in su Continuate a suggerirmi Nuove challenge Lasciate un like Commentate Passate nella pagina facebook Iscrivetevi al canale Qua da Bistar Per oggi è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video Ciao